Ciao, namaste! In questo video sono felicissima di annunciarti che è finalmente online il mio nuovo sito ciaoyoga.it. Su ciaoyoga.it oltre ad una rinnovata veste grafica troverai una grandissima novità, la possibilità per te di entrare nella tua area riservata a ciao yoga con un abbonamento mensile di soli 15,50 euro. Entrare nella tua area riservata ti permetterà di praticare dove vuoi e quando vuoi tutti i giorni accedendo alle classi di tutti i miei programmi più alcuni percorsi inediti che ho caricato appositamente per te all'interno di quest'area per permetterti di praticare yoga adeguatamente in ogni momento dell'anno. Al termine dei 30 giorni il tuo abbonamento non si rinnoverà automaticamente ma sarai tu a decidere se rinnovarlo oppure no. Questa novità è stata introdotta per permettere a chiunque di praticare yoga tutti i giorni per un mese a meno di 50 centesimi al giorno e inoltre per permettere a coloro che hanno dei ritmi di vita veramente frenetici di praticare yoga in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi parte del mondo. Accedere alla tua area riservata è semplicissimo ti basterà andare su cioyoga.it e alla voce di pratica yoga con me cliccare sul bottone quando vuoi. Qui ti si aprirà la pagina con tutti i miei programmi e percorsi indicati anche per livello e cliccando sul bottone acquista abbonamento mensile verrai rindirizzato sulla pagina riepilogativa. Qui cliccando su acquista ti basterà inserire tutti i tuoi dati e inviare il pagamento se sei un nuovo utente mentre se avrai già acquistato un abbonamento ti basterà inserire la tua email e la password che avrai già in possesso. Per i nuovi utenti invece si riceverà per email un messaggio in cui vi verrà richiesto di impostare la propria password personale che vi permetterà quindi di accedere alla vostra area personale. All'interno dell'area personale potrete accedere a tutte le classi dei miei programmi e alle classi dei programmi inediti, potrete inoltre accedere al gruppo privato facebook di Ciao Yoga e sotto ad ogni percorso e programma che praticherai potrai lasciare sempre il tuo feedback, le tue domande, i tuoi commenti e io ti risponderò sempre. Bene spero che questa novità vi piaccia e che vi motivi a praticare yoga ripeto per meno di 50 centesimi al giorno ovunque voi siate, dovunque voi siate e quando potete praticare. Quindi ti aspetto su www.choyoga.it. Namaste a presto! Alla prossima!